ben sintonizzati on air ben trovati con enzo straniero quest'oggi voglio portarvi nel mondo della cucina e lo faccio con la bella e brava elisa sesto la cucina di elisa sesto benvenuta elisa grazie ben trovati e allora io ho fatto questa piccola prefazione perché il mondo della cucina immenso nella creatività nella fantasia intanto parlaci un po di te di quello insomma che ti sei specializzata ad essere a fare sono partita in pratica dalla dalla farmacia perché vengo da un'esperienza farmaceutica di 17 anni perché l'interesse di portare benessere alle persone c'è sempre stato aumentato l'interesse per il benessere della persona con la nascita del mio primo figlio adesso ne ho tre maschi e ho capito che non basta solo il farmaco ma interessa proprio l'alimentazione perché alla fine siamo quello che mangiamo ovviamente è importante quello che ci mettiamo nel piatto anni fa ho incontrato un sistema di cottura che cucina a basse temperature dunque si mantiene inalterate il 98 per cento di vitamine e sale minerali mi sono dedicata a questa ricerca ho studiato questo metodo di cottura sono diventata una food blogger perché la passione della cucina diciamo è andata avanti più di due anni fa ho incontrato per caso ma un caso fortuito proprio ho incontrato gli oli essenziali che sono particolari non quelle che conosciamo tutti quanti che semplicemente vanno a profumare l'ambiente ma questi sono oli puri certificati testati e garantiti che hanno un grado di purezza talmente alto che possono essere utilizzati anche in cucina dunque semplicemente ho sostituito le erbette aromatiche le spezie che di solito utilizziamo tutti quanti quando cuciniamo con l'olio essenziale della pianta da quale si è di solito si utilizzava adesso ci spieghi meglio perché chiaramente insomma fino adesso siamo stati abituati a mangiare in un modo adesso scopriamo che ci sono gli oli essenziali gli oli essenziali che possono appunto sostituire appunto quelle che possono essere le verdure e adesso magari ci fai capire meglio di che cosa stiamo parlando attenzione perché voglio invitare proprio che ci sta ascoltando a condividere questa nostra intervista anzi a localizzarvi a localizzarti nelle pagine social che ti ospitano con un hashtag l'hashtag è il seguente hashtag elisa con la z attenzione elisa se stov oppure hashtag elisa se stov la cucina di elisa e ancora hashtag elisa se stov blog blog food comunque è più semplice se mi contattate al telefono 340 624 2038 così vi potrò rispondere a che oalsiasi di voi che vuole sapere un qualcosa in più ok magari se lo vuoi ripetere questo numero magari così lo facciamo riuscire meglio 340 624 2038 anche attraverso whatsapp che ormai ho telegram che è già passato lì ci sono dappertutto certo parlaci meglio di questi oli essenziali in che cosa appunto come vengono così considerati quantitativi poi appunto da considerare ehm gli incontri con questi oli essenziali è stato un momento quando io stavo male stavo male non perché ero malata ma perché manifestavo effetti collaterali di un farmaco che ho dovuto prendere e la fortuna ha fatto che accanto c'era una naturopata che lavorava con questi oli essenziali mi le ha messe nel palmo della mano e io in due minuti mi sono ripresa e mi sono andata a studiarli mi sono specializzata certificata come specialista nei oli essenziali poi ho scritto anche un giornalino sugli oli essenziali in cucina poi chi vorrà me lo potrà richiedere il link si ordina adesso tutto online online e ho iniziato sì ho iniziato a sostituire per esempio l'origano l'origano come spezia io ho una ricetta che necessitava tanto origano i spaghetti arraganati dove per tre di spaghetti per intenderci ci valevano tre cucchiai da minestra colmi di origano secco ecco i tre cucchiai colmi li vado a sostituire con una goccia di olio essenziale di origano perché l'olio essenziale in pratica il sistema immunitario della pianta e siccome questi sono estratti a basse temperature mantengono la cellula vegetale viva in tal modo da portarci tutto il benessere dove possono reperire poi questi oli essenziali scusami se ti interrompo perché adesso la politica viene alimentata sempre di più è semplice tutto online basta che mi contattate vi potrò spiegare molto di più aiutarvi diciamo ad addentrarvi in questo mondo fantastico dei oli essenziali che io li utilizzo anche per la cucina ma utilizzarli in cucina è un valore aggiunto che noi diamo al nostro piatto perché ovviamente le erbete le abbiamo sempre utilizzate la maggiorana il basilico il prezzemolo insomma tutte queste cose le abbiamo sempre utilizzate solo che essendo essicate perdano tante delle loro proprietà benefiche ovviamente non sappiamo da quanto tempo sono state raccolte da dove insomma non abbiamo una certa certificazione la provenienza di queste piante invece sugli oli essenziali sì e ovviamente non possiamo avere a disposizione nel nostro orto per chi ha fortuna di averlo tutte le erbete aromatiche spezie incluse sempre a portata di mano 365 giorni all'anno la cannella per esempio dubito che qualcuno abbia l'albero di cannella non credo proprio assolutamente anzi io come adesso ci saranno sicuramente tantissime massaie casalinghe che si staranno chiedendo vabbè ma quanto costa quest'olio essenziale non è che devo comprare veramente molto 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 10 volte meno delle erbete che aromatiche facendo il paragone ovviamente la porzione circa 10 volte meno delle erbete le erbete aromatiche essiccate o delle bustine da tè perché io anche il tè me lo faccio con l'olio essenziale mescolando in un pochino di miele solo nel miele mettendo una due gocce di olio essenziale di quello che io voglio di solito è menta limone queste cose mescolo il miele aggiungo il sì l'acqua tiepida e mi sono fatta il tè ma è un qualcosa di fantastico perché nello stesso tempo faccio anche l'aromaterapia perché vado ad ispirare i vapori no l'evaporazione dell'olio essenziale ci stai aprendo un mondo talmente incredibile che come se fino adesso praticamente tutto quello che abbiamo fatto è come se fosse stato sbagliato quindi mi pare di capire la natura ha sempre esistita a prescindere dall'uomo dalla nascita dell'uomo e la natura ci ha sempre messo a disposizione per tutti noi il suo benessere e le sue gocce d'amore possiamo dire per la sua farmacia che se la auto produce da sola ecco basta semplicemente prenderla e utilizzarla bene grazie per gli interessantissimi consigli che ci hai dato quest'oggi elisa ti ringrazio per essere stata con noi su radio news 24 grazie a voi buona giornata amici state con noi perché altre interviste altre storie continuano bioner su radio grazie a tutti